Ma ferma! Ma ferma! Oh no, io ti faccio! Oh no, io ti faccio! Ma è tutto spettato! Ma è tutto con cui è arrivato! Eh! Ma capi che è natura! Dai che lo mettiamo a marchi a sua macchina! ... Ma... Oh Mauro, che il è il piano? Ma... ... ... Ma... Ma... ... Grazie a tutti.